ciao a te bentornato a final fantasy 7 crisis core reunion sì il video scorso è stato il video delle missioncine cose varie quindi ho deciso di dedicare un paio di 328 anni a risolvere tutte le missioni però da tranne tre tranne questa che praticamente vuole 6 stelline di difficoltà e papà non vuole questa la stessa e questa la stessa si equipaggiamento ho preso una scindra beta un giubbotto antiproiettile guardate la mia resistenza non mi tocca nessuno lama stop bonus pv ignira e bonus magia più questo però è da alzare ho scoperto che con la magia me la cavo meglio per l'attacco normale ok è tutto possiamo tranquillamente continuare la nostra storia la maniera più normale possibile ok ci sono altre storia spero che siano il più breve possibile mi prego dove sei tu chi c'è qua l'ho fatta ehi sono andata allo stesso punto ma 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 vuoi rifare la missione sii altro da fare ok un'altra ok un'altra ok un'altra se vuoi si sono sempre zatti tranquillo velenca hai altro? si che hai altro ho capito? quanto ci sta acqua non puoi ringraziare la ricerca e il sviluppo 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 e che volete la donazione? una lama silenz ma vaffanculo un'altra se vuoi tu puoi e ho altro da fare tu puoi sempre so molto come si sta il ruolo di materiale veramente puoi un'altra 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 ma si un'altra puoi ma c'è a noi fortuna oh si un'altra da fare ora che stiamo producendo materiale mass-produzione qualità il plan di cercare uscire è stato completamente scappato davvero davvero non dimenticare il mio lavoro non dimenticare mi hanno dato un grande bonus dov'è dov'è ciccio ciccio fammi capire c'hai per caso qualcosa da dover dire no eh questo è quello che deve seguire i sogni e le cose stu niente cos'è l'ascensore che le cose a quanto pare c'è una missione qui che va sbloccata battendo un'altra roba un sacco un cacetone quale dovrebbe essere no comunque tutto questo anche sbloccato sia bahamut che odino andiamo avanti con la storia per favore zack zack no la guerra è finita questo è sono sicuro che hai ascoltato io ho regalato no non ho non ho ascoltato le informazioni di company non ti ricordano mai come struzzi in tv solo parlano del bravo di Sephiroth ma il Sephiroth era in B unit beh i nostri eroi sono chiusi dalla media i sogni erano zack volevi realmente essere il grande eroe oh come on col morale forza affanculo ah sei il mio posto questo c'è a tenere la materia di Vamut ah si la presa a tenere la materia di Oddio Dino presa anche ok qui niente c'è soltanto quello lì ma noi ce ne preghiamo altamente dove deve andare qua c'è all'esposizione? wow io ti conosco ecco l'automatica tre ruote ma io conosco pure te il razzo Shinra numero 26 che cosa è bello ok abbiamo un occhio da qua non c'è nulla e qua c'è un'altra missione secondaria aria oh ora stiamo lavorando un speciale sui potenti il pubblico ancora deve pagare il prezzo ma come ti buona bottiglia? ok certo che si siamo sempre delle persone buone che basta perché senti così energico devi alzarti persino dopo essere stato sconfitto in battaglia wow ora ora il pubblico il pubblico come te come te un'altra? una proviamo ok saluta la gente è grande ok ok ci ciò va un'altra ora il pubblico il pubblico il pubblico il pubblico il pubblico si certo che si guarda di nuovo si spunta di nuovo mi sento alla grande e basta si basta ok 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 il pubblico ah non è difficile direttore con la salve il pubblico è grande ma questa è la sala esposizione quindi uno come grande grande non è difficile se ho del direttore se ferrotti grazie ho il pubblico che non è difficile non è difficile di raggiungere Pensavo che sarei più felice Entendolo, troppo è successo, troppo velocemente Zack, sono freddo che ho bisogno di più di assistenza Sto spettando un'altra domanda su me? No, 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 no C'è un uniforme da prima classe I soldi di prima classe sono sotto osservazione costante e le capacità di combattimento di Zack vengono valutate a ogni scontro. Ottenendo certi risultati in battaglia riceverei una valutazione favorevole. Come ricompensa potessi recuperare PB, PM o PA. Nessun danno subito, senza subire danni, parametri impeccabili, obbilità limite, colpo decisivo invocazione. Ok, questo è tutto ciò che devo fare per le ricompense. Cosa è sta cosa per il mese principale? Questo dovrebbe dare un'idea generale di come funziona il processo. Ok, risulta la materia ignis. Se hai alcune questioni, lasciatemi sapere. Ok. Cosa ha bisogno della materia? Vediamo come... Madonna! Allora, la combinazione di due materie diverse è un processo chiamato fusione di materie che consuma PS. Per esempio di fusione, Fira, Fulgor, Crea e Criora. Ok. Esistono materie che non possono essere prodotte in questo modo. Il risultato della funzione è solitamente una materia di livello 1. Da nel caso in cui due materie uguali vengono fuse, il livello del prodotto finale sarà quello della materia di livello maggiore. Inoltre, se si utilizza una materia di livello master, il prodotto finale sarà di alto livello. Può utilizzare le materie che non usino e sperimentare le nuove fusioni. In caso vengono fuse due materie con parametri diversi, il parametro maggiore diventerà quello finale. Adesso verrà segnato il 50% del valore numerico del parametro minore. In minima magia più 3, bonus 4, se i parametri sono uguali il parametro finale sarà di alto livello. Ok, vediamo. Influzione materie. Proviamo, 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 proviamo. Forza. La seconda materia sarà... Ok. Questa è 0. Questa è 5. Ok. che fai? Quale sarebbe il tuo scopo nella vita? Ignis e Fulgor fanno un Crayora. Wow. Questo potrebbe essere interessante. La Crayora già ce l'ho. quindi posso fare un secondo soltanto ignira tra i ora per un full goga ignis e fulgora tra i ora ignis e fulgora tra i ora per un full goga uno giga questo mi servirà se la fusione energica una posta qua e per la funzione delle materie bravo ok quando non è che c'è con la presente notifichiamo il cambiamento di status dei dipendenti di seguito riportati angiel haole soldi di prima classe ucciso sul campo e genesi rapsodos ucciso sul campo non è vero non è vero che cavolate dici ok io credo che morirò male prima o poi ma che vuoi ho capito tutto l'ho mandata a cacare però materia fusione è ancora una nuova tecnologia alcune combinazioni e risultati non sono cercate è per questo che vogliamo che vi esperimenti e se vi faccio una nuova scelta lasciatemi sapere ma per favore finito cambiando? si e ho prenduto materia fusione e poi tornare al mio ofizio ti abbrerrò sulla missione si ok 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 suggerimento di questione di materia c'è niente qua vero? nob ci ci ho per favore ah KUNZEL visto loveless va bene Genesis è morto in missione? A chi vogliono darla a bere? Sono appena tornato da una rappresentazione di Loveless a Midgar Mi piaceva molto a Genesis, non è così? Di solito il teatro classico non mi interessa, ma è stato un bello spettacolo Nella versione originale l'uomo è il protagonista, ma la storia è più dal punto di vista della ragazza che lo aiuta L'ultima battuta è, certo, tornerò da te Non ho bisogno di promesse, so che sarei qui ad aspettarmi A quel punto ho cominciato a piangere come una fontana A questo punto andiamo direttamente all'ufficio del direttore Dimmi tutto, ciccio La compagnia ha deciso di eliminare Genesis e i suoi covorti Questo anche include Angeal E vuoi che mi faccia? Non, l'armi Shinra avvicinirà E cosa con me? Non confrattano a te E loro credono che le emozioni te avviciniranno il tuo giudizio Beh, ovviamente E' per questo che andrò Uhuh, lavorerò con Sephiroth Che cosa? Quindi a quanto pare c'è stata una missione, per favore Che ha fatto irruzioni? Può andare nell'atrio, sì, immediatamente Che cosa è stato? Che ha fatto? Torniamo all'atrio Dice che Genesis sta poicottato Scusate Lontido malissimo Ah, caspida Oh No Non è sicuro Mi posso bastonare male Ok C'è un risultato. Sephiroth, gli intrudere sono copie di Genesis. Non c'è sicuramente. Questo è quello che fare Hollander. Chi è quello? Un scienra che scopo la copie. Poi si riuscì. Voi dire che Hollander e Genesis lavorano insieme? Non c'è sicuramente. Sì, sai cosa stanno... ...plante? Hollander ha deciso di direncizzi. E si è scoperto. L'ha nato a Rugga di Shinra. L'ha chiesto di riuscì. È così scoperto. E Genesis sta supportando questo stupido? Non voglio credere. No, allora non. Sì. Ora, Zack. Copie sono scopi in Sector 8. Sì. Sì. Ok. Questo è male. Sì. Dobbiamo separare. Buon ringrazio. Ok. Sì. 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 Rino. Rino. Rude. Sangue. Non c'è bisogno di preoccupare. Non c'è bisogno di preoccupare. Eh? Ok. Chi sarebbe lei? Nick Carr è solo scappando con le pelle. I soldi hanno difficoltà. Rino. Rude. Sì. Sì. Sì, signor. Rino. Rino. Rude. Non sa abbracciarvi perché è scappato. Ma tu chi saresti? Sì. 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 Siamo cercando un uomo che ha chiamato Hollander, se lo trovi, lo dettagli Il fatto che Hollander sia una cattivissima persona perché... Aia! Oh yeah! Ah, dicevo, anche perché... Il fatto stesso che Hollander stesso... Cioè, il posto nel reparto scientifico è stato preso da Ojo Che di per sé non è assolutamente una persona più buona del mondo E non c'è... Qualche dubbio Allora, siamo nel settore 8 Wow! Sì, devo salvare i civili Oh yeah! Questo tizio sarebbe Genesis... Orecchini... Che mi dai gli orecchini mentre ti sto salvando il culo? Ok, dai stai sempre fermo... Nooo, la mamma e la bambina... No, no, non li toccano... ti brucio Ok, duele... Ok, ecco... Orecchini... Ok, ecco... Una pistola enorme? Lasciagliela al bambino, pirla! Ok, c'è più niente Sì, adesso posso tranquillamente andare avanti C'è più niente C'è più niente C'è più niente C'è più niente Contro Genesis C'è più niente Sì, sì No, le copie? Activare il modo combat Non è mai diretto dagli altri Sì Boom Un'ala nera Pure lui Un'ala nera Ok Ok La città sta morendo Come un angelo Sono mostri ovunque Vaniglie che stanno mostri angeli Sono mostri Le ucce Le ucce Simbolisano libertà Per gli altri che non hanno Non simbolisano monstri Impressione, soldi di prima classe Ho ottenuto l'indirizzo Di visione investigativa La lista dei negozi è stata aggiornata Allora, adesso Andiamo al prossimo lavoro Hai anche qualcosa, certo? Sì 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 Bene, sì Vai, vai via Hai dimenticato la tua ombra La lascia da qua Un sector 8 è chiaro Vieni al Reactor 5 Hai trovato qualcosa ora? Angeo ha stato scelto Angeo? Angeo? Sì, è cercato e distruggere? L'armi sta mobilizzando Ma ancora c'è tempo Tu e io Ci troviamo prima di farlo E E E cosa? Fai Per eliminarli Per vero? Sì Per vero Buongiorno! Siamo fallata Sephiroth Quindi Sephiroth vuole fallire nell'uccidere Angeo E Genesis Guarda che anche Sephiroth voglia parlargli Ok Ok Ovviamente missioni non mi rimane aperta nulla Eh te pareva Eh te pareva Activating combat mode Onclet resolved Oh Oh yeah! La cosa più stupida del mondo Che Che? Che? E' la faccia di Angeo? E' la faccia di Angeo? I cera Che? Ha ha E una faccia di banca Oh Q quando i secondi sono arrivati. Genesis, Angeo, e io. Voi erano abbastanza forte. Hmm... mi ricordo... Infinite in misteri è il dono della città. Ci troviamo così, e prendiamo al cielo. I... Ripples form, on the water's surface. The wandering soul, knows no rest. Loveless, Act 1. You remember? How can I not, when you've beaten it into my head? Don't take Sephiroth lightly. Hmm... Noted. Uh... Angeo da Genesis contro Sephiroth, ovviamente, l'allenamento, su Pond. Dove no? A Junon! No! 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 Non! Mentre marisc Илл stay back i'll take seferoff alone genesis the world needs a new hero come and try so smug but for how long ok Wow, Zephyr per l'istigolta! Oh Oh Stop You'll destroy this place That's no way to talk to a hero Oh 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 I bought I 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 Ah! Enough! Angeo... Out of my way! Genesiss! Just a scrape I'll be fine Don't worry Even if the morrow is barren of promises, nothing shall forestall my return Extremamente poético So, was everything all right? Yes, as far as Genesiss was concerned But, as for Angeal Angeal? What happened? Later, I received one of his famous lectures About what? Always the same Discipline, dreams, honor, etc Haha, one of those, huh? So, it's true They're in league with Hollander A quanto pare How could this happen? Angeal, what are you up to? Where are you? Nuovo tutorial, suggerimento, emoto amici Ok Madonna Dipendersi dagli attacchi nemici Molti nemici sono in grado di sferrare potenti attacchi Alcuni di essi potrebbero anche implicere alterazioni di stato Assicurati di parare per proteggerti cosa Allora, le qualità e tecniche quando si viene parata I danni subiti sono ridotti Allora, ho capito Già E niente? No Suggerimenti? Per me era una materia di Bamut Furia Trendo il secondo oggetto L'immagine di Bamut Furia verrà aggiunta all'ONG Qual? Secondo oggetto tra le immagini di Bamut Furia Allora, ho capito La materia di Chocobo Il megafono di Kite Set Ottenibile come ricompense completando M843 Posta sospetta al numero 3 Mi vengono state tre immagini di Kite Set Ho capito L'ammuleto di MOG Ho capito un'altra missione Ancora per il Interimente L'indirizzo nel negozio 1 Di seguito ad alcune delle missioni attraverso cui è possibile ottenere l'indirizzo online di vari negozi Ok, sono tutti i negozi Ogni negozio vende prodotti diversi ma c'è utile acquisire il maggior numero possibile di indirizzi Ok Eh, divisione investigativa ecco qua le materie Eh, anche qualche equipaggio meglio Interessante Cappo bianco per bene, mutine, sciocco e veleno Interessantino Bambara Quindi immagino che ci saranno altre missioni, povero Nope Non ci sono missioni, incredibile Ok Però come direte Maledicemi Metta parola Una prossima viva, ricevuta, una missione disponibile Ok Grazie, grazie, grazie mille Grazie, grazie, ancora grazie Buona vera cacciatrice Ok Il nuovo personaggio avrà aggiunto allonghi Ah bene Ok Immagino che per oggi è tutto appuntamento al prossimo video Probabilmente riusciremo a capire che cosa stanno combinando angi e le genesis con Il Lo scienziato Che apparentemente è pazzo però Vi do ancora qualche chance Ribellarsi a Ojo è Cosa ovvia Ciao Piccolo PS Ma Ma Quale? Sono nessun sacco e sicuramente nessun perv Il mio nome è Zac Quindi Che, sei perduto o qualcosa? Vuoi che ti prendi a casa? Non sono perduto Sono qui per prendere il tuo tracetto Tutto Per la gloria di Wutai Prego Prego Per la gloria di Wutai Per la gloria di Wutai Non sono perduto Per la gloria di Wutai Ehm Perché non ti accorgi che sei perduto? Sei sincero Per la gloria di Wutai Ehm Per la gloria di Wutai Ehm Per la gloria di Wutai Ehm Va bene Ehm Finita qua Ho preso anche la materia La summon del Chocobo Ehm Ehm Ciao Ciao